Martedì 4 dicembre ancora bentrovati all'ormai consueto appuntamento con l'SOS Telebari in diretta tutti i martedì dalle 15.30 alle 16.30 su Telebari. Oggi siamo in compagnia del presidente dell'AMI Gianfranco Grandagliano, presidente bentrovato. Di nuovo buon pomeriggio a tutti. Vi ricordo che per intervenire potete chiamare il 501 9998 e sarete collegati subito con noi. Abbiamo chiuso la prima parte di questa puntata con un telespettatore che chiedeva delucidazioni sullo stato del mercato di Santa Scolastica inaugurato appena un anno fa, proprio l'8 dicembre dello scorso anno, quindi siamo quasi al primo compleanno addirittura d'arrivo e il telespettatore denunciava uno stato di degrado diffuso. Però prima di rispondere prendiamo un'altra telefonata e poi la faccio rispondere subito a Santa Scolastica. Buonasera a voi, presidente. Buonasera. Presidente, io abitavo al nord e ogni anno alla prossimità delle feste arrivava il calendarietto a casa del servizio di raccolta rifiuti in cui mi diceva tra l'altro pure i giorni in cui veniva una raccoglia, tipologia, eccetera. Noi non ce l'abbiamo questo raccoglio, però un calendarietto mandato dall'amministrazione comunale con tutte le indicazioni che magari sono anche reperibili su internet. Per l'anziano magari se lo vede tutti i giorni, fatto bene, però facciamo propaganda la città per altri settori. Ci dà tutte queste indicazioni che sono, sì a conoscenza, sono su internet, però averla a parete è una cosa. Lì però vuole fare concorrenza a frate indovino, non so se sarà felice. È qualcosa di simile, ma diventa anche simpatico perché poi diventa anche un'immagine della città. Detto questo, noi saprò sicuramente che sotto alcuni ponti, via Nazionale a Palese, vicino alla scuola, si buttano rifiuti, mobili, eccetera. Poi sotto, se va sotto al ponte anche qui di via Omodeo, a Giappigia, c'è altro. Vicino al Bravò, al Teatro Bravò. Si mettono dei cassoni in modo che, ho capito, capita che non dovrebbero andare le gomme plumatici da un'altra parte. Li mettiamo almeno diverso nei cassoni e poi li andate a raccogliere, perché poi andate comunque a raccoglierli. Insomma, tutto era un'idea, per non vederli a vista, le canzoni li buttano dentro. È chiaro, è chiaro. Grazie mille per il suo intervento. Allora, andiamo con ordine, perché adesso il telespettatore ha posto la questione dei rifiuti ingombranti. E quindi ne parliamo tra un attimo. Prima rispondiamo alla questione del mercato di Santa Scolastica. Mi sembra, insomma, doveroso, visto che il telespettatore starà aspettando. Su Santa Scolastica noi diamo particolare attenzione. È ovvio che senza la collaborazione degli esercenti commerciali, titolari degli esercizi commerciali, non possiamo avere quel risultato di completa pulizia, perché noi laviamo ogni santo giorno, Santa Scolastica, ritiriamo il rifiuto differenziato ogni giorno e stiamo avendo anche un buon successo. Però ce ne sono alcuni che forse non intendono lasciare il rifiuto negli appositi spazi, lo lasciano dappertutto. Questa è una segnalazione che andremo a recepire e la gireremo al comandante Donati, perché coloro che hanno il potere sanzionatore sono i vigili urbani e non i nostri dipendenti. Per farvi comprendere, noi per evitare il problema che i titolari degli esercizi commerciali di Santa Scolastica conferissero in modo errato in altre parti, abbiamo eliminato tutti i cassonetti perimetrali del mercato, posizionati in zone adiacenti, in modo tale da evitare che per comodità molti titolari di esercizi commerciali andassero a depositare in modo errato in questi cassonetti. Abbiamo messo le isole ecologiche, stiamo avendo un buon successo, specialmente per il differenziato di Santa Scolastica. Dobbiamo perfezionare e chiederemo ai vigili urbani che hanno una postazione fissa presso il mercato di vigilare in modo più attento su queste trasgressioni. Da ultimo anche quella relativa alle pescherie, perché si erano otturate, questo è un altro problema. L'Asi è accertato che purtroppo non c'era responsabilità, né nostra. Ripetiamo di cosa stiamo parlando, perché ce ne siamo occupati anche noi. Si erano otturati i canali di scolo delle pescherie. Avevano dato responsabilità sia a noi che al comune di non effettuare una manutenzione, una pulizia adeguata. Poi si è scoperto che erano stati conferiti, lasciati in questi canali di scolo, ma neanche rifiuti, materiali di risulta che non va smaltito tramite l'AMIU, ma va smaltito tramite società convenzionale perché non sono rifiuti, ma sono materiali di risulta dell'attività di pescheria. E quindi qualche furbo l'aveva buttato nel canale di scolo per evitare il pagamento. Per evitare il pagamento si erano otturati e quindi si sentiva quel cattivo odore che poi chi frequenta il mercato di Santa Scolastica aveva più volte lamentato. Purtroppo però non è responsabilità nostra, perché ogni giorno facciamo la pulizia del mercato. Stiamo vedendo intanto le immagini del mercato di Santa Scolastica. La pulizia del mercato viene fatta ogni giorno con maggiore attenzione anche nei punti dove c'è il giardino. i nostri operatori sono molto attenti. Poi per quanto riguarda l'altra telefonata, stiamo predisponendo il materiale informativo che andremo a distribuire proprio necessario da distribuire a tutti i cittadini sulle regole della differenziata, i giorni di conferimento a secondo del tipo di rifiuto da differenziare. Quindi siamo particolarmente attenti. Potremmo sfruttare anche l'idea di fare il calendario eventualmente. Infatti siamo congolati al Comune di distribuire questo materiale informativo. Ecco, oggi infatti pare che i cittadini sollecitino l'AMIO ad entrare nelle case in maniera alternativa, dal concorso al calendario. Ma noi siamo disponibili, perché noi vogliamo essere vicini al cittadino per ogni sollecitazione, un'evenienza, ogni richiesta, perché il nostro servizio è proprio questo. Potrebbe essere la maniera giusta per educare e sensibilizzare. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? Pronto? Sì. Buonasera a tutti. Volevo fare una domanda al Presidente. Prego. Allora, io chiamo dal quartiere Sant'Anna. Di Apigia. Sì. Sì, noi ormai siamo dimenticati da tutti lì dietro. Allora, io più volte ho chiamato al call center e mi hanno risposto per la raccolta differenziata di chiamare al Comune. Il Comune, altrettanto, ha detto di richiamare all'AMIU. Io volevo sapere a che punto, cioè, non lo so, per la raccolta, a che punto siamo. Perché voi, signora, non avete i bidoni, la differenziata. No, niente. Ma sono le nuove costruzioni queste. Giusto? Sì, sì. Ci hanno messo due bidoni. Sì. Però quella, cioè, quei due bidoni sono per, cioè, per l'immondizia comunque... Indifferenziato. Eh sì. Signora, voi adesso, siccome magari non tutti conoscono la vostra situazione, voi per molto tempo avete anche lamentato l'assenza di illuminazione, di strade, giusto? C'era qualche difficoltà nei servizi? Eh. O ricordo male? Adesso a che punto siamo? Eh no, la luce comunque è tornata perché comunque sono andati già a rubare in qualche appartamento, quindi comunque ci sono state delle lamentele. Purtroppo i cittadini vanno sempre... Sì. Pronto? Sì, la sentiamo, la sentiamo. Ah, ecco. Sì, no, volevo dire che comunque la luce è tornata. Bene sì. Adesso c'è la campagna che c'è lì, è tutta abbandonata. Ci sono già le prime discariche, ruote, perché qualcuno viene a scaricare durante la notte. Eh sì, come in molte zone di apigia. E anche l'amianto, ho notato. Purtroppo come in molte zone di apigia, succede spesso in tutte le zone poi di campagna che abbiamo in città, purtroppo succede. E quindi la vostra richiesta è sostanzialmente bidoni della differenziata, giusto? Eh sì, 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 in effetti, perché comunque ci sono famiglie, le persone ci sono, quindi l'immondizia c'è. E quindi si accumula. Perfetto. Grazie mille, grazie. Presidente, innanzitutto, di chi è la responsabilità in questo caso? Perché la signora parlava un po' di un rimpallo di responsabilità. No, sono, allora, in quanto si tratta di zone nuove, è ovvio che la segnalazione viene fatta dal comune ai nostri uffici che provvedono a monitorare quanti abitanti, quanti nuovi residenti ci sono e adeguare il servizio alla presenza dei residenti, al numero dei residenti. È ovvio che, avre iniziato a mettere i bidoni, è ovvio che per fare la raccolta differenziata i nostri responsabili di servizi esterni cercano di incontrare gli amministratori di condominio e i cittadini al fine di spiegare le modalità della raccolta differenziata. Quindi può anche darsi che sia in itinere l'avvio della raccolta differenziata. Adesso lo sollecitiamo, in modo tale, visto che sono già pronti e credo che a questo punto non ci sono problemi, li sollecitiamo e faremo andare il nostro personale presso i nuovi condomini per posizionare i cassonetti raccolti differenziati anche dalla frazione organica. L'altro problema è quello segnalato dalla signora, che ogni spazio aperto, purtroppo, lasciano di tutto di più. Molte volte capita che i rifiuti che lasciano sono rifiuti speciali che devono seguire uno smaltimento particolare e abbastanza costoso e molte persone, invece di seguire la via legale, preferiscono abbandonarli. Persone singole o anche a volte, purtroppo, magari imprese? No, no, molte volte sono imprese perché ce ne siamo accorti. Abbiamo sanzionato un'impresa che tranquillamente andava a conferire inerti in un cassonetto di indifferenziati in via Mendola. e costituisce quello un illecito penale. Non è più un illecito amministrativo di arrivati conferenti, quello che costituisce un illecito penale. Stiamo studiando col Comune un progetto per monitorare tutte le zone, diciamo, tra virgolette, aperte adiacenti, per evitare questo abbandono selvaggio di rifiuti in modo tale da prevenire questo fenomeno e in caso di accertamento di responsabili sanzionarli in modo esemplare. Intanto la signora di Sant'Anna può stare tranquilla. La prossima volta che ci sarà il presidente Grandagliano, cioè tra due puntate, ci dirà a che punto siete. Noi interveniamo immediatamente. Interveniamo immediatamente e poi ne daremo comunicazione. Nel senso che è giusto che una zona nuova sia coperta dal servizio. Se ci sono cittadini volenterosi, devono essere assolutamente coccolati anche dall'AMI, possiamo dirlo. Prendiamo un'altra telefonata. Pronto? No, non c'è un'altra telefonata.